Cittadini di aggira, questo messaggio è rivolto principalmente ai giovani che sono stanchi del continuo decadimento del paese. Come tutti sappiamo, i politici e gli amministratori comunali pensano solo ai propri interessi, tralasciando quelli che sono i veri problemi. È arrivato il momento di unirsi tutti insieme sotto nessuna bandiera politica, e di iniziare a far sentire la nostra voce ormai atrofizzata. È giunta l'ora di uscire allo scoperto, di smetterla di nascondersi dietro chiacchiere che non posseggono un fine. Bisogna agire. Dar vita ad una protesta che si sta già manifestando negli animi di coloro che sono stanchi di vedere il proprio paese andare a rotoli. Pertanto, estendiamo l'invito a prendere parte al Consiglio Comunale che si terrà giorno 9 settembre alle ore 19, per dar sfogo alle opinioni di ognuno e porre fine alle futilità. Li critiche da bar. Agirà ha bisogno di ciascuno dei suoi abitanti per rinascere, per tornare ad essere un lume per l'intera isola. Perciò, stop ai lamenti, sia ai commenti.